I nomi dei concorrenti della prossima edizione dell'Isola dei Famosi sono stati finalmente ufficializzati e tra i partecipanti c'è anche l'annunciatissimo Rocco Siffredi, personaggio sicuramente da non sottovalutare e da cui i telespettatori si aspettano simpatici siparietti. C'è a chi però la scelta di Rocco come naufrago proprio non sta bene, si tratta di Flavia Vento, a sua volta ex concorrente del reality quando era ancora a casa Rai, che su Twitter ha scritto che oscenità Rocco Siffredi all'Isola dei Famosi, grandi valori date alla gente, un cretino che ha fatto solo porno, schifo. Rocco Siffredi non si fa attendere e risponde subito alla showgirl, io se fossi in te prima di scrivere un tweet consulterei un esperto in lingua italiana, a a a un briciolo di notorietà, cercasi la mia amica in cerca di pubblicità e da lì si è scatinata la lite social. Grazie a tutti!